È stato riscontrato un 24% a rischio per quanto riguarda sia il gioco d'azzardo sia per quanto riguarda l'uso delle sostanze. La cosa importante è che questo tipo di ricerca e intervento, perché poi c'è stato un aspetto formativo, classe per classe, ad Alcamo abbiamo lavorato su 151 classi, quindi puoi immaginare la mole di lavoro che è stata fatta e che dopo l'intervento abbiamo avuto una riduzione del quasi 10% dei soggetti problematici che hanno risposto in termini di normalità e quindi di risultati positivi. Noi questo lo pubblicizzeremo ovviamente con il centro di riferimento perché hanno bisogno di aiuto e noi questo facciamo, dobbiamo aiutare queste persone anche con le cure perché le patologie vanno, se non si interviene con la prevenzione, vanno curate e noi siamo attrezzati per fare anche questo. Stiamo verificando la compatibilità di queste misure in qualche modo restrittive per l'utilizzo e l'impiego delle cosiddette macchinette, i video poker negli esercizi pubblici. Stiamo studiando come poter limitare il più possibile lo spazio per questi strumenti che poi consentono purtroppo ai giovani, soprattutto ai più piccoli, di entrare in un circolo vizioso.